Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla Lamborghini. E' stato 4 anni fa quando abbiamo preso l'Aventador qui in Ginevra. A quel momento, e ancora è, è un car full di innovazioni tecniche e ancora non ha compagni. Ora abbiamo un nuovo prodotto dentro del pipeline. La new Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce. In questo car, abbiamo concentrato 3 principali elementi. Il primo è la potenza di potenza. Il secondo che abbiamo concentrato è l'aerodinamica. Il secondo è il pilota di potenza di potenza. È un'azienda che è nuovo per una rata e molto veloce come la Superveloce. Quindi, da 0-100 in solo 2.8 secondi. Da 100-0 in solo 30 metri. E la top speed di questo car è di più di 350 km per ora. Ma una cosa rimane non cambiata. E questo è il fatto che l'Aventador ancora non ha compagni. sul catturale di acquiesco. E questo è il pilota di acquiesco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.